Ciao a tutti, sono Martina, lei è Maria, lei è Arnella e siamo tre ragazzi italiani amanti del Giappone e volevamo mandare un messaggio di forza e coraggio. Gabbatte! Un anno fa siamo state in Giappone e grazie al Wish Club e Mochan abbiamo conosciuto un sacco di persone giapponesi e stranieri tra cui Junko ed Emi. Ciao! Ci siamo divertite moltissimo e siamo state benissime in Giappone grazie a voi. Sì, vogliamo tanto tornarci, ospitateci! Infatti speriamo tanto che qualcuno di voi ci scriva, che diventi nostro amico in modo da poterlo ospitare qui e far riconoscere l'Italia, il nostro bellissimo paese e speriamo anche di poter tornare magari in Giappone e ospitato dai nostri nuovi amici. Questo è il messaggio. Gabbatte! Grazie! 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 Grazie!